Rispondo subito a questa domanda che può aiutare già ad andare avanti. Perché, Guido mi chiede, perché doppio bemole sette? Perché non è un accordo di sesta? Anche se questa nota qua è un fa diesi, io lo posso chiamare fa diesi diminuito, per esempio, no? A seconda del contesto. Gli accordi sono in successione di terze, per cui è uno, tre, cinque, sette. Tutti gli accordi a quattro suoni sono fatti così, a parte quegli accordi di sesta, che è uno, tre, cinque, sei. L'accordo diminuito è comunque una quadride di settima diminuita, no? Uno, tre, cinque, sette. Se poi andiamo ad aggiustare questi intervalli agli accordi... Vediamo le cinque famiglie così togliamo questo dubbio una volta per tutte. L'accordo maggiore è uno, tre, cinque, sette. Tutti gli intervalli maggiori o giusti. L'accordo minore è uno, bemole tre, cinque, bemole sette. Se è un minore settimo. Invece l'accordo di dominante è uno, tre, cinque, bemole sette. L'accordo di settimo è di dominante. L'accordo semi-diminuito ho chiamato minore sette, bemole cinque. Con questo nome e cognome dico già che com'è questo accordo. Se è un minore è uno, bemole tre, bemole sette e anche il bemole cinque. Quindi uno, bemole tre, bemole cinque e doppio bemole sette. Naturalmente se io invece di chiamare sol bemole lo chiamo fa diesis va bene lo stesso perché anche il fa diesis diminuito ha un accordo che ha quelle note lì fa, la, do, mi bemole. Se invece di mi bemole voglio chiamare re diesis va bene lo stesso perché anche re diesis ha quelle note. Re, fa diesis, la, do. E così io con l'enarmonia dei suoni vado avanti per terze minori e trovo un accordo che ha quattro nomi. In pratica ognuna di queste quattro note può essere la fondamentale. Questo significa che il mio accordo diminuito può essere chiamato in quattro modi diversi. o la, o do, o mi bemole, o sol bemole o fa diesis, mi bemole o re diesis va bene.